Attenzione, attenzione, anche a D'Arezzo sta per arrivare il più grande spettacolo live di tutti i tempi Sta arrivando il Super 8 Show Attenzione, attenzione, quando si accende la luce parti eh, ok? Vai! Salta, 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 dai! Dove sei andato? Dove sei andato? Mi sei scappato da te di camera Ah, ecco, bene così, bene così Saluta, 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 senza mai avvicinare tanto a un problema Grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.